Buonasera a tutti, sono Federica Ceccotti, docente del corso di Corporate Marketing Communication che si tiene nel primo semestre del secondo anno. Il corso di Corporate Marketing Communication intende trasferire in primo luogo conoscenze e competenze necessarie per pianificare, gestire e valutare processi di comunicazione d'impresa e più nello specifico della comunicazione di marketing. Accanto a lezioni teoriche frontali volte proprio al trasferimento delle conoscenze, il corso si propone di sviluppare delle capacità applicative attraverso il ricorso a testimonianze aziendali sia del mondo di impresa che del mondo di agenzia e attraverso lo sviluppo, l'analisi di casi concreti e infine mediante lo sviluppo di un piano di comunicazione integrata tradizionale e digitale. Soprattutto attraverso quest'ultimo progetto, il piano di comunicazione, gli studenti potranno sviluppare capacità di lavorare in gruppo, capacità di problem solving e infine anche il public speaking, dovendo presentare i risultati del loro lavoro in aula di fronte ai colleghi. Un aspetto sul quale si pone particolare enfasi durante tutto il corso è l'acquisizione di un linguaggio tecnico adeguato al mondo della comunicazione, utile per gli studenti per confrontarsi in aula con i colleghi e con i docenti aziendali che interverranno con le loro testimonianze, per presentare il piano di comunicazione e soprattutto per affrontare in modo professionale il mondo della comunicazione di domani. Grazie mille per l'attenzione e vi aspetto al corso di Corporate Marketing Communication.